Uomini e donne, Carola lancia una dopo l'addio al programma, sono piena. Carola lascia uomini e donne e abbandona così il percorso a poche settimane dalla fatidica e attesa scelta finale in studio. Nel corso delle ultime registrazioni del talk show pomeridiano di Canale 5, c'è stato il colpo di scena del tutto inaspettato legato alle vicende della giovane corteggiatrice. Contrariamente ad ogni aspettativa, è stata Carola a mettere la parola fine al suo percorso con Federico Nicutera e sui social, non ho evitato delle stoccatine al vetriolo che non sono passate affatto inosservate tra i fan. Nel dettaglio, le ultime registrazioni di Uomini e Donne sono state caratterizzate dall'uscita di scena di Carola dal cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5. La giovane corteggiatrice ha ammesso di essere delusa e amareggiata dal modo in cui Federico sta portando avanti questo percorso e in particolar modo, dal fatto che abbia scelto di fare una nuova esterna con sorpresa assieme ad Alice. L'altra pretendente del talk show giunta alla fase finale di questo percorso sta di fatto che, dopo aver visto il coinvolgimento speciale tra Alice e Federico, Carola ha scelto di abbandonare la trasmissione definitivamente e in questo modo rinunciare alla scelta finale. Una mossa che ha spiazzato tutti, in primisi fan della trasmissione di Canale 5. Molti dei quali facevano il tifo per Carola ed erano convinti del fatto che sarebbe stata lei la scelta finale del tronista. Subito dopo la sua uscita di scena dal cast di Uomini e Donne, Carola non è stata raggiunta nel dietro le quinte da Federico. Il tronista, questa volta, ha scelto di non raggiungerla e quindi di non avere un confronto immediato con lei, come era accaduto in passato. Federico la lasciate andare e, in attesa di scoprire se ci sarà un chiarimento fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5. Ecco che Carola è tornata ad essere attiva sui social. La corteggiatrice, subito dopo la sua uscita di scena da Uomini e Donne, si è mostrata in compagnia delle sue amiche su Instagram, con le quali ha trascorso delle giornate a Roma. Successivamente, poi, Carola ha spiazzato anche con una frecciatina polemica sempre dai suoi canali social. Sono piena, si legge in uno degli ultimi scatti pubblicati dall'ormai ex pretendente di Federico Nicotera. Una frecciatina mirata e rivolta proprio al tronista che, da diversi mesi ormai, sta portando avanti un percorso che sembra non arrivare mai ad una conclusione definitiva. I fan continuano a sperare in un lieto fine. Aia de cand ma stiu, textul-i plin de dude. Dumele tarte printre talea culte. Incerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capa rupte. Obele bat cu inima deodata nu le opresc, ca nu s-a atat de nebun, ma gandesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine, fii egoist dar linistit si eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapherul din toto, tot MC-ul care am crescut pe scurt de la un p****. Grazie a tutti.